speriamo di uscire senza troppi danni da questo venerdì 17 2024 ma le notizie che arrivano sinceramente sono in linea con questa giornata con quello che potrebbe essere questa giornata secondo quelli che credono in queste cose perché vi vado a leggere dalla gazzetta dello sport ragazzi non il solito citarello di pseudo tifosi romanisti Roma dal Nizza arriva al DS Ghisolfi e ha già tre osservati speciali nella Ligue 1 nella Ligue 1 francese in attesa di salutare ufficialmente il Nizza il futuro dirigente giallorosso si concentra già sul mercato ieri ha salutato Nizza anche se in modo amaro perdendo in casa per 2 a 1 con il Paris Saint Germain giocandosi di fatto le ultime speranze di agganciare la Champions la prossima settimana subito dopo l'ultima fatica in casa del Lilla potrebbe essere ufficializzato secondo la gazzetta dello sport come nuovo direttore sportivo della Roma Florant Ghisolfi nel frattempo sta lavorando e lo fa in modo particolare proprio sul mercato francese dove conosce meglio i giocatori da poter eventualmente acquistare vediamo un po' chi sono ad ora ci sono tre calciatori sul tuo taccuino che potrebbero interessare alla Roma del futuro uno tra i giocatori del campionato francese andiamo a vedere chi sono Baffoda di Akite Banzia o Banzia e Edon Zegrova Ghe Zegrova a posto Ghisolfi li sta monitorando ha allacciato anche rapporti con i rispettivi agenti non è che vuol dire che la Roma prende questi giocatori ma sembra che si stia lavorando con questi profili e questa è una cosa grave ci sta insomma pensando su allora chi sono Di Akite uno dei tanti di Akite che si sentono c'è uno anche nella Lazio se mi ricordo bene che è proprio un difensore è un terzino destro di 23 anni costa dai 12 ai 15 milioni gioca nel Lilla e all'occorrenza può fare anche il difensore centrale abbiamo detto che si chiama Bafoda 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 di Akite vabbè Bafoda fisicamente forte è uno che a gambe ama i duelli proprio come piace a Daniele De Rossi magari Di Zolfi potrà pallarci anche nel fine settimana visto che Nick ha giocato a Valilla dove tra l'altro c'è anche Zegrova che è un esterno offensivo kosovaro che quest'anno è stato uno dei segreti della squadra di Fonseca sarete che Fonseca è l'allenatore del Lilla anche per lui ci vogliono una quindicina di milioni di euro ma a 25 anni è giovane e un range d'età compatibile con gli eventuali investimenti dei fricking che vogliono gente giovane affamata che non costi tanto a livello di ingaggio oppure e che possa essere valorizzata per il futuro sempre per la storia logica di riguadagnare poi nel momento in cui cioè prendi un giovane bravo diciamo lo valorizzi questo qua magari ti esplode pure e quindi compi a 15 poi rivendi a 40 è sempre solo discorto però il problema è che questo discorto va bene finché questi giocatori poi quando vanno in campo stanno a giocare a pallone e manco poco un altro aspetto che per De Rossi è Basilare abbiamo visto quindi dunque no un attimo Zegrova vive di uno contro uno di dribbling continui sempre alla ricerca della superiorità numerica un altro aspetto per De Rossi è Basilare soprattutto per i suoi attaccanti e poi c'è Simone Banzia o Banzia un centravanti di 1,89 è forte oggi un centravanti essere 1,90 è la normalità praticamente a meno che non sia un falso 9 un centravanti di 1,89 forte fisicamente e anche agile è quello che Ghisolfi conosce meglio avendolo avuto con sé a Lenz prima che la punta congolese di 27 anni si trasferisse in Portogallo al Rio Ave dove in questa stagione ha segnato 23 reti in 40 partite in Portogallo però in Portogallo ci sono veramente 3 squadre poi insomma anche qui costo tra i 15 e i 20 milioni Ghisolfi ci sta lavorando su in attesa che diventi ufficialmente il nuovo DS della Roma ragazzi se questi sono come si dice se il buongiorno si vede dal mattino ce ne resta veramente molto preoccupati